Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio portare sul canale, finalmente, perché era già da più di un anno che lo volevo trattare, soprattutto che mi ero incuriosito, vi parlo ovviamente di Alien, il gioco di ruolo ufficiale della Free League, che io ringrazio di cuore immensamente per averci offerto non solo questa copia recensione, ma tutto il bundle che vedete davanti. Questa è tutta la roba attualmente uscita per il gioco, più sicuramente ci saranno complimenti e altre cose che usciranno più avanti, ma questa è tutta la roba uscita finora e le voglio ringraziare di cuore. È un onore poter collaborare con voi e questo gioco è uscito nel 2019. Comunque, tempo che hanno fatto le vendite per Natale, tempo che comunque hanno anche mandato via direttamente i corrieri per tutti coloro che avevano fatto il pre-order, mi hanno mandato a casa il bundle, quindi le ringrazio veramente di cuore ed è un piacere disumano. Banale dirvi che sono fan di Alien da una vita. Questo l'ho sempre detto in ogni mio video dove vado a trattare praticamente GDR, ma soprattutto quando si parla di ambientazioni sci-fi spaziali, ovviamente ambito horror. Quindi le mie due ambientazioni horror spaziali preferite sono Alien in primis e la seconda, che spero che prima o poi ci faranno un GDR per davvero, o anche un gioco da tavolo, è Dead Space. E Alien mi ributta indietro alla mia infanzia. Da quando per la prima volta avevo 5 o 6 anni, mi sa più 5 che 6, ma me lo ricordo ancora di una pura disumana, vedi il primo Alien, ovviamente quello di Ripley, dell'Anno Stromo, della missione su LV-426, del Capitano Dallas con il suo lancio a fiamme nei condotti da reazione dell'Anno Stromo e mi piacque talmente tanto che già da piccino me lo guardavo un casino di volte. Sono riuscito veramente anche, me lo ricordo molto bene, a vedermelo tre volte in un giorno solo. Una volta manca poi mi ci venne la febbre. Tre volte in un giorno un film, sfido chiunque, nemmeno il più bel capolavoro mai esistito, troppo a vedere due volte, ma nemmeno, ma chi è che si guarda un film? Lo stesso film due volte in un giorno, figuriamoci tre. E poi successivamente con l'uscita di Aliens Controfinale, che poi la versione originale si chiama semplicemente Aliens, quindi Marine Coloniali, tutte le nuove cose aggiunte, Ripley, che ha fatto un viaggio di più di 50 anni nell'Ipersonno. E poi Alien 3, che Alien 3 vi dico la verità, per 20 anni della mia vita, 20 anni della mia vita, l'ho spregiato, riguardandolo non molto tempo fa con mia moglie, invece ho iniziato ad apprezzarlo molto. Ora, lo metto in fondo agli altri due, ovviamente perché non soltanto per un fatto di sequenza, ma per un fatto che è meno interessante rispetto agli altri, però secondo me è bello ed è... ci può stare, dai, è un bel film, è una bella conclusione. E andando nel GDR appunto della Fria Ligan, questo è il GDR ufficiale, infatti i detti sono tutti quanti i loghi della 20th Century Fox, e è bellissimo. Qui, se vi ricordate, come già vi dissi, per il gioco di ruolo editor in Italia della Need Games, che ancora una volta saluto e ringrazio, di The Witcher, il manuale del GDR di The Witcher lo può comprare anche qualcuno che non gioca ai GDR, o che proprio li fanno schifo, che non gli piace giocare di ruolo. Gioca soltanto al computer, giochi di ruolo, cartaceo ovviamente, al tavolino, vecchio stile, non gliene frega niente, lo deve comprare uguale perché è una Bibbia. C'è scritta tutta l'ambientazione, tutti i personaggi, tutte le spade, tutte le armi, tutte le tecniche di scherma, tutti i mostri, il bestiario, il continente, c'è scritto tutto. Quindi il manuale di The Witcher va preso anche solo per un fan, una specie di guida di quelle dei video giochi. E questo di Alien, secondo me, va ancora oltre perché qui davvero non ci hanno visto. Nel vero senso della parola è come si dice a Livorno. Ci hanno messo qualsiasi informazione, occhio, ovviamente canonica. Dimenticatevi le cavolate che abbiamo visto in Alien Contro Predator, dimenticatevi le cavolate che abbiamo visto in vari giochi anche per computer brutti come Colony Almarins, anche quello dimenticatevelo, però tutta la roba che è diventata canon. Quindi in questo manuale trovate la roba ovviamente, a parte i film, Prometheus, Covenant, tutti i film di Alien. Ovviamente, poi vi spiego il perché, non ci troverete niente del quarto film, che è il più brutto secondo me, non esiste. Per me Alien è una trilogia, infatti non c'è niente di quella roba, ma anche perché il gioco è inventato tre anni dopo i fatti di Adelaide Soap, del pianeta Acheron, LV-426, tre anni dopo la fine di Aliens, scontro finale. Quindi non ci siamo ancora 100-200 anni dopo quant'erano, insomma, nell'ambientazione dell'ultimo Troiaio 4. E vi dicevo, c'è veramente di tutto perché ci ritrovate anche la Sigson, che la Sigson è stata introdotta da una serie di fumetti, è una compagnia che fa con molti meno sordi, però che fa concorrenza alla Whalen di Utani, e che abbiamo visto in Alien Isolation. Si parla ovviamente anche di Amanda Ripley, si parla della stazione Sevastopol, cioè fa riferimento ai film, ai fumetti, ai romanzi e ai videogiochi, però per tutto quello che nell'ordine è diventato canon. Non fa, ad esempio, riferimento ad audiolibri e cose del genere, a parte una piccola nota per darci un consiglio dove trovare l'ispirazione per creare avventure. E questo gioco è bello perché ci dà la possibilità di essere giocato in due modi, in due varianti. La prima è una variante cinematica, giocandolo cinematico vuol dire una, due, tre sedute, esagerando poi arriva a quattro, ma secondo me già la maniera cinematica è per una barra due sedute, quindi diciamo un 5-6 ore di partita, e nella modalità appunto citata cinematica è come se faceste vivere un film ai vostri giocatori, quindi alla fin fine c'è un inizio, c'è una fine, c'è uno scontro con lo xenomorfo, o xenomorfo sempre presente ovviamente in questa ambientazione, per quanto non sono gli unici mostri, si narra di altri pianeti dove ci sono altri mostri che non sono xenomorfi, perché ovviamente varie forme di vita aliene, indigeno, comunque arrivate dall'altro pianeta a bordo di astronavi, come i costruttori, gli architetti che avete visto in Prometheus, comunque ci sono molte più creature che non sono gli xenomorfi, per quanto gli xenomorfi giustamente sono il fulco, il cardine di tutta quanta l'ambientazione, o non avrebbe senso creare un'ambientazione di alien appunto portandola in GDR, e quindi è ricco veramente di informazioni e ci dà la modalità per giocarlo in cinematica, o se no una modalità campagna normale. Ora, io personalmente una modalità campagna ce la vedo difficile, occhio, cinque modalità cinematiche, quindi cinque film da una o due sessioni, messe insieme avete fatto una campagna, e forse ce lo vedo più indicato, perché una campagna nell'ambientazione di alien, cioè trovi il primo xenomorfo e ti salvi per culo, trovi i primi due o tre e ti salvi perché qualcuno ti dà una mano, o non puoi sopravvivere all'xenomorfi, poi muori. Quindi la vedo difficile portare avanti una campagna alla D&D, dove ti arriva il personaggio, il marine coloniale, diventa pluridecorato in guerra, in battaglia, il nuovo X o Vaskets con la smart gun, dopo 20 avventure, un anno che stiamo giocando, e tu c'è sempre il solito personaggio che ormai se li mangia all'xenomorfi. Lo vedo un po' forzato come cosa, e per questo io lo giocherò molto di più a single shot, ci farò dei film, magari film 1, film 2, film 3, e nel 3 sai già te Game Master che l'equipaggio lo faremo di. Comunque qui, quello che vedete qui davanti nel bundle completo, perché se no ovviamente comprate soltanto il manuale base che è questo qui, ma nel bundle completo ci sono i dadi ufficiali, che sono dadi a 6 facce di colore nero, col simbolo che tanto poi ve li faccio vedere aperti, sul 6 c'è una specie di mirino che va a identificare il colpito, perché tutto questo manuale, come anche abbiamo visto già nell'ambientazione di Mutant Year Zero, questo gioco gira tutto intorno al lancio del dado da 6, dove l'unico risultato buono che manda a segno il colpo o manda a compimento l'attuazione è il 6. Quindi tutti gli altri risultati non valgono niente, soltanto il 6. Infatti sui dadi ufficiali, sul 6, c'è disegnato un mirino. Poi abbiamo gli stress die, o comunque anche per fare i panic roll e cose del genere, che sono dadi, sempre a 6 facce, quindi potete usare anche ve li ce l'avete in casa, dove questa volta invece sul 6 c'è la figura del facehugger, che vuol dire che quando farete un test stress die, che poi vi dico più avanti, comunque addove una prova si supera con un risultato di 6 su un dado da 6, quando tirerete invece uno stress die e vi uscirà il simbolo, o il 6, o il simbolo del facehugger, vuol dire che avrete fallito miseramente la vostra prova, quindi qualsiasi cosa, anche sparare, scalare e tutto, dovrete subito fare un panic roll. Poi abbiamo, sono tutte cose opzionali, però ragazzi sono mie opzionali fino a un certo punto, perché ti velocizzano il gioco da morire, mazzo di carte, che all'interno ci sono carte equipaggiamento, carte iniziativa, carte personaggio, 20 character cards, perché praticamente ci sono anche tutte quante le carte per un'avventura che poi vado a descrivere, e la cosa più importante è 10 carte iniziativa, invece di stare a tirare i dadi per vedere chi fa il risultato più alto, prendete queste 10 carte, le mescolate, le date ognuna a tutti i giocatori seduti al tavolo, una al Dungeon Master, che è questo gioco che si chiama Mother, ovviamente come l'intelligenza artificiale della Nostromo, quindi della Wayland Yutani, però possiamo anche, il Dungeon Master nel caso abbia più NPC, si può dividere anche le carte per più NPC, uno c'ha il numero 1, quello c'ha il numero 5, quello c'ha il numero 3, quello il numero 2, e si va in ordine di iniziativa, ovviamente carte che devono essere date per ogni nuovo turno, si rimescolano e si ridanno, poi abbiamo qui davanti, tanto ora vi faccio vedere tutto nel dettaglio, lo schermo del Dungeon Master, che è qualcosa di spettacolare, e dietro lo schermo del Dungeon Master, ci sono tutte quante le tabelle, quindi tiri per colpire, tiri per colpire in corpo a corpo, a distanza, panic roll, tutto quello di cui il Game Master ha bisogno, senza andare ovviamente a girare nelle pagine manuale, poi abbiamo Chariot of the Gods, se vi interessa però ragazzi, occhio, qui lo dico contro il mio stesso interesse, io ci ho fatto tre video sul canale, una trilogia che l'ho giocata tutta questa avventura, quindi se la volete ordinare, ve lo dico io sul primo, non guardate il video Chariot of the Gods, perché ve la spoilerate, ve la rovinate, l'ho un po' modificata, però comunque ve la rovinate, e questa è un'avventura spettacolare, che è a metà strada, fra il film Prometheus e Alien 1, ed è veramente molto interessante, è una figata disumana, e i personaggi che troverete qui dentro, sono le carte dei personaggi, che poi avete in questa avventura qua giù, abbiamo un'altra cosa molto interessante, che sono i maps e markers, che praticamente dentro questa cosa qua giù, dentro questa specie di piccola bustina, c'è la mappa del gioco, tanto ora vi faccio vedere tutto aperto, la mappa di tutti quanti i settori, che tra l'altro è bellissima, vi giuro c'ho una voglia di metterla dentro, un quadretto moio, ve lo dico sinceramente, quindi amore, iniziamo a cercare le misure, quando si va da Obi, e questa qui è la mappa, dove vi muoverete, per tutte quante le vostre avventure, ovviamente divisa in unità astronomiche, quindi per chi di voi ha giocato, a Coriolis o Corioli, non c'è niente di particolare né strano, le meccaniche sono sempre quelle, anche perché Coriolis, sempre della Freya Ligan, ragazzi era Alien, era, cioè io quando l'ho visto la prima volta, lo leggevo, ho detto questo è Alien, cioè perché non hanno fatto direttamente Alien, infatti secondo me ci mancava poco, era una prova sul campo, in più tutti quanti i map token, marker, che sono bellini da morire, e ad esempio, qua su in cima vediamo tipo Marine Coloniali, che comunque li dovete prendere, non come Marine Coloniali, ma come pedine, per degli umani, degli esseri umani, o perché anche i vostri personaggi, poi abbiamo tipo anche gli Xenomorphi, abbiamo tipo i Bleep per le navi, sono tutte cose che potete usare direttamente, su una mappa di gioco, per facilitarvi il gioco, un po' come quando giocate a D&D, e avete bisogno di una rappresentazione fisica, del campo di battaglia, e ora vi faccio un pochino vedere, vi spiego ovviamente sommariamente, velocemente le regole, però vi faccio più che altro vedere, tutta la roba che c'è dentro, per modo di dire, unboxing, ecco qua i token, che trovate nel supplemento appunto, token e mappa, e sono tipo token di Marine, o comunque di umani, vedete, per rappresentare sul campo di battaglia, Xenomorphi, o comunque alieni, contatti e cose varie, poi qua sotto avete tipo, vabbè, i facehugger, i chestbuster, nel caso avete bisogno di una regina, e questi token sono bellini, perché sono dei ping per le navi, io ora vi faccio vedere, girando direttamente, e facendolo vedere dietro, vedete, da una parte, c'è il rilevatore di movimento, quello dei Marine, quindi quando volete tenere qualcosa coperto, prima che venga scoperto, così da rivelare il token che c'è sotto, un po' come in un board game, Alien Contro Predator, veramente bella, come trovata, e poi ovviamente i radar, che vedete qua giù, per quando incontrate una nave, almeno che la nave, ovviamente non abbia le comunicazioni disattivate, il motore è spento, per non essere individuata, quindi, qua giù trovate tutti quanti i token, più ovviamente altri token che vi servono, ad esempio manovra, un token di manovra, un token di RAM, se con la vostra nave volete andare a scantare contro un'altra nave, insomma questi sono molto utili, perché vi facilitano il gioco, non le dovete né disegnare, nel master deve tenere tutto a testa, tantomeno i giocatori. La mappa di gioco divisa in settori e in colori, si parte ovviamente dal nostro sistema solare di Sol, perché l'ambientazione ci racconta che i primi pianeti colonizzati, tra l'altro dove ci ha messo la zampina anche la Whelan di Yutani, sono stati ovviamente la Terra, vabbè Luna, il nostro satellite, Marte e Titano, satellite di Saturno, perché poi alla fin fine Titano è talmente grande come satellite, che potrebbe essere tranquillamente riconosciuto come pianeta. Comunque vedete che tutti quanti le zone, ovviamente da un quadratino all'altro, è una distanza di un parsec, e sono tutte quante divise per colori, quindi ci sono i settori ad esempio blu, questi qui, o comunque violetto, blu, sono iniziando a diventare un po' dal tonico, che sono tutti quanti governati dai marine coloniali, o per meglio dire dall'America Unita, dalle Stati Uniti d'America, quindi quelli che avete visto in Aliens, nel secondo film, quindi qui sono tutti quanti governati, è la sfera di influenza dei marine coloniali, e poi abbiamo la zona gialla, che è una zona indipendente, autogestita dai coloniali, che sono lì ormai da molto tempo, però ovviamente anche qui sono sempre protetti dalla vigilanza delle navi da battaglia, della marina coloniale. In verde, l'Unione e l'Impero dei Tre Mondi, che è la fazione più forte del gioco, che è anglo-giapponese, come fusione, come iniziativa, è un po' la stessa storia, come abbiamo visto, della Weyland-Yutani, perché anche la Weyland era inglese, e la Yutani sono giapponesi, però sono un'entità a sé stante, una fazione a sé stante, autogovernata, e che si sono ritagliati una grandissima parte di spazio, perché poi vediamo quante ne hanno presa, però anche loro non hanno un vero e proprio esercito, e quindi hanno sempre bisogno di essere difesi, da una parte dai marine coloniali, quindi dagli Stati Uniti d'America, e la tecnologia la devono comprare dalla Weyland-Yutani, perché comunque la Weyland-Yutani è quella che ha la tecnologia più voluta di tutti, e in rosso l'unione dei progressisti, quindi laddove i film ci hanno fatto vedere da una parte i marine coloniali e da una parte la Weyland-Yutani, vediamo che invece la mappa è stata molto più allargata e resa molto più vive, soprattutto anche per, qui ci sarà da ambientarci, non delle singole avventure, quanto delle campagne, sarebbe stato un po' riduttivo giocarle sempre Weyland-Yutani contro marine coloniali, e quindi hanno messo in campo un pochino più di fazioni, fazioni che sono citate ovviamente in romanzi, fumetti e in quant'altro. E poi, una parte centrale che non vi voglio spoilerare assolutamente niente, ma i fan della saga l'avranno riconosciuta, Headless Hope. Questa è la mappa ufficiale del pianeta LV-426, della colonna di Headless Hope, dove è ambientato tutto il secondo film della saga di Cameron, quindi Aliens. E vi dico soltanto che nel manuale c'è una delle due avventure giocabili, che una è un manuale a parte, c'è Riot of the Gods, e una è un'avventura proprio inserita all'interno del manuale, vi faranno vivere gli ultimi giorni della colonna di Headless Hope, prima che venisse completamente distrutta dagli Xanomorfi e prima dell'arrivo di Ripley e di tutti quanti i marine coloniali della Sulaco. Ragazzi, brividi, c'è già una cosa del genere un fan della saga la vede, le piglian colpo. Lo schermo del Dungeon Master, devo cambiare, lo schermo di Madar, e qui avete tutte quante le tabelle, tutte le azioni veloci, le azioni lente, perché ciascun giocatore può fare o due azioni veloci o un'azione lenta o un'azione veloce, poi ovviamente ci sono tutti quanti i tiri critici, le ferite critiche, il tiro di panico che è molto importante, vi dicevo prima, e tutte le altre cose di cui ha bisogno Madar, colui che vi crea l'avventura, l'avventura che vi dicevo, Cereot of the Gods, che è molto interessante ed è ambientata tra Prometheus e il primo alien, quindi qui vedete tutti quanti la lista dei personaggi che potete andare a interpretare, e mi fermo qui ragazzi, perché più avanti non vi voglio nemmeno far vedere gli NPC che incontrerete, perché è una cosa veramente, veramente, e l'ho giocata tutta, se non vi interessa spoilerarvela, andate a vedere la trilogia di video che ho caricato sul canale, ragazzi, è una figata, questa è la classica avventura che secondo me ci avrebbero dovuto creare, o una miniserie televisiva, o anche un film. Molto più bella questa avventura di Covenant, secondo me, di tanti altri film di Alien usciti finora. Una figata assurda. E set di carte. Tutti quanti i personaggi che vi ho citato prima, soprattutto quelli che potrete andare a giocare, e dietro ognuno di loro c'è scritto la persona all'agenda e ci hanno scritto anche tutte quante le caratteristiche, le abilità e cose del genere. Poi, gli equipaggiamenti che ci sono nel gioco, tipo la navetta Cheyenne dei Marine Coloniali, il mezzo, l'APC, e anche questo girandolo dietro ci sono sempre tutte quante le caratteristiche del mezzo. Quindi queste sono carte che potete andare direttamente a vedere anche nel manuale, però è una cosa molto bellina, a parte i disegni sono spettacolari e poi velocizzano. Ragazzi, siete a bordo di un APC dei Marine Coloniali, ce l'avete direttamente qui, girate, vedete come è armato, la velocità è tutto. Poi un mezzo di spostamento veloce e coloniale, come quello dei Jordan, se vi ricordate della famiglia di Newt, quindi un mezzo di spostamento e poi tutto quanto l'equipaggiamento. Quindi quanto faceva di danni il lanciafiamme a che gittata arrivava? Ce l'avete scritto dietro? Oppure la famosa Smart Gun di Vasquez e anche qui quanto fa di danno, come funziona, che bonus da sparare? Sono molto utili e almeno le avete sempre a portata di mano. E qui il fucile impulsi e il mazzo dell'iniziativa. Quindi semplicemente queste le andate a mescolare, girate e dietro c'è l'ordine. Magari ci sono in quel momento lì due giocatori e un NPC date una carta per uno. Nel caso ci siano 5 NPC ovviamente potete anche dare una carta sola per tutti gli NPC però che tutti gli NPC agiscano in contemporanea è un po' brutta la vedezza e quindi in quel caso lì date una carta per ogni NPC. Nel caso le carte ovviamente sono 10 nel caso le carte non dovessero bastare vedete un po' voi magari date tutte le carte che rimangono in mano al Dungeon Master a Mother e poi gli NPC si muoveranno di conseguenza. Comunque questo è il mazzo del turno dell'iniziativa che volta per volta ogni turno che passa dovete andare a rimescolare per ridarle ai giocatori. E poi abbiamo i dadi da gioco che sono semplici dadi da 6 tra l'altro il colore mi garba da morire perché è il classico bianco su sfondo nero un po' che si vede sempre in tutte le scritte o nei computer di bordo di Alien insomma è un colore molto richiamato in questa ambientazione e vedete sono semplici dadi da 6 dove appunto sul 6 c'è il simbolo di un colpito. Quando voi andate a tirare dei dadi solo il 6 è un successo. E poi abbiamo gli stress die che sono questi qui per fare tutti quanti i tiri di stress dove sul 6 anche questi hanno un colpito perché anche gli stress die li potete tirare tranquillamente ora poi vi spiego le regole per avere dei successi e rettifico quello che ho detto all'inizio il facehugger invece sul numero 1. Quando esce il facehugger la vostra prova è fallita anche se avete fatto 5 successi con i dadi neri più un altro successo con un dado giallo e vi esce su un altro stress die che andate a tirare vi esce un facehugger non conta quanti successi avete fatto la prova sarà fallita direttamente e ragazzi ditemi voi se non sono stupendi questi dadi porco mondo sono veramente bellissimi da avere vi faccio vedere un po' come sono le regole anche qui avete la mappa di gioco che è la stessa che avete visto grande che vi ho fatto vedere prima e ovviamente qui ci sono tutti quanti colori delle fazioni ve l'ho detto fazioni che sono l'unione dei progressisti che sono una parte autogestita di colonie che si sono staccate come ovviamente anche chi vive nella frontiera ah vi ricordate Allen il primo era ambientato più o meno in questa porzione qua giù nella frontiera quindi questa parte qua giù esterna che viene chiamata anche l'orla esterna insomma per noi magari che ci piace anche i guerre stellari e poi tutte le altre fazioni che sono gli Stati Uniti d'America le colonie indipendenti che sono la parte minore però che sono riusciti ad avere l'indipendenza e l'impero dei tre mondi che sono tanto alla fine si gira sempre lì sono anche lì autogestiti sono una potenza immensa guardate là quanta parte prende dei settori conosciuti dello spazio conosciuto però a loro volta sono praticamente governati dalla Weyland Utani infatti la Weyland Utani ha un seggio in questo impero qui ci racconta un po' la storia e ci fa vedere degli esempi per anche ambientarci un po' più nell'ambientazione dell'equipaggio della USCSS Miranda ed è bello perché mano a mano che ci descrive le regole ci fa vedere anche gli esempi ah ragazzi i disegni i disegni che ci sono sopra sono qualcosa di magistralmente bello veramente ti ci calano in questa ambientazione cioè guardate questo disegno qua giù il classico modulo coloniale che vanno all'esplorazione mandati forse appunto dall'impero dei tre mondi o se no perché anche sarà un classico dalla Whalen di Utani e trovano il relitto alieno di una nave dei creatori o degli architetti guardate cioè che bellezza che è questa qua giù evocativa bezza sembra di rivedere il primo alien e come vi ho detto prima il gioco si divide in due modalità cinematic play che è quella single shot comunque una storia che inizia e finisce e se da il caso che i vostri personaggi che si salvino o che muoiono comunque vanno persi quindi sono personaggi per una single shot oppure una vera propria campagna dove potete andare avanti passare di livello e guadagnare punti in questo gioco quando andate a creare il personaggio all'inizio il personaggio con la classe scelta potrà avere una caratteristica dall'1 al 4 come valore nessuna caratteristica può arrivare a 5 perché il massimo che potete avere una caratteristica è 5 può arrivare a 5 la vostra caratteristica base di quell'archetipo o di quella classe che avete scelto che poi vi faccio vedere che ne so se una classe ha come caratteristica principale forza la forza la potete portare a 5 tutte le altre possono arrivare a 4 le abilità stessa cosa le abilità possono arrivare da 1 a 5 quindi caratteristiche abilità vanno da un valore minimo di 1 a un valore massimo di 5 le abilità di partenza della vostra classe le potete avere fino a 3 le abilità invece potete prendere qualsiasi tipo di abilità un marine coloniale sa sparare col fucile però magari un marine coloniale non ha l'abilità oratoria e di politica se volete dargli quell'abilità gliela potete dare però di partenza potrà avere un valore soltanto di 1 le abilità ricordatevi che le abilità di classe possono arrivare fino a 3 di partenza poi dopo possono arrivare anche fino a 5 quelle non di classe fino a 1 i vostri personaggi ovviamente concetti principali del gioco carriera come vi ho detto attributi e vedete che gli attributi possono arrivare comunque fino a un valore di 5 e gli attributi si dividono per forza agilità vabbè forza vanno a dirvelo carico portato resistere danni anche perché i punti ferita vanno sulla forza all'inizio l'agilità per schivare oppure per correre per saltare da un punto ad un altro wits che invece l'intelligenza del personaggio tutte quelle doti tipo che ne so accendere un computer e riuscire a parlare con un terminale intelligente oppure riprogrammare un computer indirizzare una rotta su un computer di bordo e l'empatia che è un po' il carisma della situazione per farvi capire quindi un personaggio come Carter J. Burke che avete visto mandato dalla Welland di Utana e dalla compagnia per seguire Ripley su Acheron avrà un livello sicuramente alto di empatia per quanto poi nel film fallisca miseramente e ci sono anche i talenti i talenti ne potete avere uno di partenza che ovviamente i talenti sono quelli legati alla classe alla carriera che andrete a scegliere quindi andate non potete prendere talenti di un'altra classe assolutamente andate nella lista dei talenti di quella classe e vi prendete il talento che più vi aggrada ciascun personaggio ha un livello di stress ha un nome ha un aspetto ha un ammontare di punti ferita e ciascuno di voi bella questa è una cosa che ho ritrovato anche nel gioco da tavolo Nemesis che adoro poi Alien lamentate queste cose la persona all'agenda voi dovete avere per forza di cose un obiettivo personale che può essere un obiettivo che va a lavorare per il gruppo può essere un obiettivo vostro personale che potremmo andare a pro o contro può essere un obiettivo contro il gruppo dovete deciderlo e deve essere segreto la persona all'agenda vostra non la deve conoscere nessuno a meno che ovviamente non vi mettano armure e vi puntino un fucile di impulsi alla testa però fino a quel punto lì non la deve sapere nessuno perché è la vostra missione in gioco e se riuscirete a portarla a compimento avrete uno sbotto di punti esperienza da parte del Dungeon Master e poi Buddies e Rivals un'altra meccanica molto interessante che nel vostro gruppo perché farete parte dello stesso gruppo sarete marine coloniali della stessa unità sarete non lo so esploratori della stessa colonia sarete gli stessi agenti della Wayland Utani comunque o l'equipaggio di una nave cargo che sta tornando verso la terra per portare magari non lo so rocce ghiaccio o comunque scorte di combustibile per la flotta ricordatevi sempre che nel vostro equipaggio voi dovrete sempre avere un giocatore che vi sta simpatico e un rivale sempre da ambientazione vi dovete scegliere un membro dell'equipaggio che vi sta particolarmente a cuore e un membro che vi sta particolarmente sul cavolo perché queste cose qui vanno poi a incrementare l'RP e comunque l'interazione che in un gioco di ruolo non deve mai mancare l'equipaggiamento ovviamente non può mancare quindi anche qui i fucili impulsi i pistole e tutto il resto guardate questo disegno è bellissimo e andando sulle classi le classi che ci sono nel gioco ragazzi io ancora l'oridio voglio rompere i coglioni cioè guardate i disegni ma non è tanto il fatto che sono belli sono proprio anche i colori freddi cioè in tema con l'ambientazione di Alien comunque il primo farei io subito il Marine Coloniale e come vi ho detto vedete ha una persona all'agenda ma queste qui sono linee generali potete crearvi la vostra queste soltanto vi da se non hai idea guarda qui poi signature item che è un'altra cosa importante un oggetto una specie di reliquia che è il vostro personaggio potrebbe essere la foto della ragazza potrebbe essere il ciondolo o la croce che vi ha regalato un parente in punto di morte oppure qualsiasi altra cosa un oggetto che lui si porta dietro e che lui è importantissimo quindi se lo perde andrà nel panico si incazzerà e cose del genere ma quando lo terrà vicino a sé potrebbe dargli anche dei bonus poi ovviamente l'aspetto nomi tipici ma anche qui inventatevi le vi pare la caratteristica chiave Marine Coloniale ha forza quindi forza può arrivare a 5 di creazione solo di creazione e poi tutte le altre caratteristiche le può portare a 5 vedete le skill principali quindi queste le potete portare fino a 3 che è i skills quello invece che non avete come skills le potete portare solo a 1 anche qui solo di partenza e i talenti qua sotto e l'equipaggiamento di partenza che dovete scegliere fra queste cose qui comunque le classi sono Marine Coloniale Sceriffo Coloniale che è un'altra figura Amigalba D'Amburie tra l'altro sembra o il governatore di The Walking Dead o Yana Plinsky praticamente gli sceriffi Marshall Coloniali sono quelli che per ordine della compagnia o dell'impero dei tre mondi o delle colonie che hanno raggiunto l'indipendenza o dei progressisti di queste fazioni comunque sono messi a capo sono tipo la polizia sono messi a capo della sicurezza di questa colonia e anche su Headless Hope per citare Aliens se andate a leggere il romanzo ce n'era uno quindi il colonial Marshall è lo sceriffo la gente della compagnia il bastardo che vive per i propri interessi per passare di grado per farsi conoscere magari per avere un ruolo di spicco Carter J. Bark insomma il classico figlio di puttana si può dire si va bene si può dire poi il ragazzino potete giocare anche il kid il ragazzo Newt cioè una delle figure più importanti di tutta l'ambientazione di Alien quindi perché no c'è anche la possibilità di giocare il ragazzino che non vi fate ingannare c'ha delle caratteristiche uniche è l'unico che può schivare in corpo a corpo è l'unico che può schivare quindi anche anche l'attacco di uno xenomorfo quindi non mi sembra roba da poco gli altri incassano lui schiva il medico ovviamente non può mancare un medico a bordo o comunque un ufficiale scientifico eccolo qui l'officer quindi l'ufficiale di bordo vedete questo disegno che ricorda molto Ripley appunto il pilota ferro dei marine coloniali e il roughneck che invece è il classico meccanico quello mandato un po' su tutte le colonie per manutenzione per costruire per terraformare è la parte classica del manovale della manovalanza sottopagata mandata laggiù sulla colonia però personaggio importantissimo ma anche a bordo di una nave perché senza di lui e senza la sua manovalanza e la sua conoscenza meccanica e tutto quanto una colonia non funzionerebbe tantomeno una nave al primo corpo di una battaglia sarebbe distrutta quindi altra figura importantissima e poi lo scienziato c'è tutta quanta la parte delle skill come vi dicevo prima pilotare vedi tutte quante skill che sono sempre collegate a una caratteristica quindi banale dirvelo come avete visto nella recensione che ho fatto di mutanti di Arziro se avete agilità caratteristica chiave a 3 avete 3 dadi se avete la skill pilotare a 2 avete 2 dadi quindi è la somma della caratteristica più l'abilità e quando in questo gioco andate a fare un check prendete tutti quanti i dadi che avete almeno che il master non vi dia de malus potrebbe dire una prova particolarmente difficile hai un meno 2 quindi un meno 2 vuol dire che tiri meno 2 dadi oppure hai più 1 quindi nel caso ne sommi 1 comunque andate a tirare tutti i dadi che avete e se esce un 6 la prova è superata nel gioco di Alien un 6 basta farvi superare la prova almeno che il master non vi dica diversamente comunque nel 99,9% dei casi periodico tra l'altro il 6 avete superato la prova anche se su 5,6 su 7 dadi vi esce soltanto un 6 la prova è superata per tutti gli altri 6 che potessero uscirvi andranno ad essere dei rafforzativi quindi può essere o che disarmate il nemico o che gli fate un danno in più quindi per ogni 6 potete fargli un danno aggiuntivo perché in questo gioco tutti gli attacchi fanno sempre lo stesso danno uguale cioè un'arma fa sempre quel danno non potete non dovete tirare per i danni un fucile impulsi farà sempre 2 o 3 danni qualcosa del genere una smart gun lo stesso quindi voi dovete sempre andare a tirare i dadi e il 6 è una prova superata per ogni 6 in più potete o buttare a terra l'avversario o fargli una ferita in più o disarmarle cose del genere in più questo gioco vi va a dire che quando volete fare una prova di tiro di dado come vi ho detto prima prendete e andate a tirare ora sto avendo culo perché mi esce sempre un 6 di solito non esce comunque fate caso che voi avete tirato questa prova non è uscito nemmeno un 6 quindi ho questa prova di ripilotare l'ho fallita e il game master mi fa ok ti vai a schiantare contro il meteorite aspetta provo a ritirare i dadi potete ritirare i dadi una e una sola volta per la stessa prova ovviamente non è che potete ritirare 600 volte però li potete tirare una volta per ogni prova differente quindi ora nel caso riprovo pilotare ritiro i dadi però prima ora in questo caso non è voluto niente prima di andarle a ritirare vi prendete un punto stress che è il dado giallo come vi dicevo prima e il punto stress è un dado che ve lo dovete segnare ovviamente sulla scheda del personaggio e l'andrete a tirare d'ora in avanti sempre 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 in ogni prova che farete ma anche se non fosse pilotare anche se fosse ranged combat anche se fosse close combat mobility qualsiasi cosa dovete sempre andare a tirare perché il vostro personaggio è stressato andate a ritirare tutti i dadi anche col dado giallo stress nel mezzo lo tirate e vedete è uscito un 6 quindi la prova è andata a compimento e un altro 6 quindi nel caso di pilotare contro l'asteroide non mi ci vado a schiantare ma non soltanto non mi ci sono schiantato ma ho fatto una prova talmente buona che mi sono anche allontanato oppure no non soltanto non mi ci sono schiantato ma aggiungendo un altro 6 mi ci sono nascosto dietro e quindi il missile che mi inseguiva va a colpire l'asteroide ricordatevi che posso fare tutti i 6 che voglio ma se sullo stress die mi esce l'1 che poi è il simbolo del facehugger la prova è fallita quindi non solo l'ho fallita come nel caso non avessi fatto nemmeno un 6 ma in questo caso qui l'ho fallita miseramente quindi la prova è fallita mi vado a schiantare contro l'asteroide e come se non bastasse devo andare a fare un panic roll il panic roll ragazzi è una tabella che non vi faccio vedere comunque una cosa a parte è una tabella che vi chiede di andare a tirare un dado da 6 e aggiungere tutti i punti stress attuali che avete io in questo caso ce l'ho soltanto 1 vado a tirare il dado da 6 ho fatto 6 più 1 perché era il punto stress che avevo 7 vado a vedere sulla tabella 7 che non so il vostro personaggio è incazzato è talmente nervoso che non riesce più a focalizzarsi su quello che sta facendo e nelle prossime prove avrà un meno 1 possono essere a volte anche traumi che vi rimangono i punti stress rimangono fino a che non passate tutto un turno un round dura 10 secondi un turno invece dura 10 minuti per perdere un punto stress dovete restare tranquilli in una zona dove non ci sono nemici in battaglia ancora meglio se c'è qualcuno accanto a darvi manforte magari a cercare di calmarvi e per ogni 10 minuti di gioco perdete se il game master vi dice che è possibile perdete un punto stress ricordatevi che ogni volta che andate a rifare un tiro di dado prendete un punto stress che vi rimane sempre non lo levate più fino a che non fate questa azione e più volte ritirerete i dadi per azioni differenti più punti stress prenderete quindi ipoteticamente se io ho 3 punti stress questi sono dadi che mi possono dare 6 quindi mi aiutano a fare le prove perché quando uno è nervoso allo stesso tempo è anche più attento ma per ognuno che uscirà come vi ho detto prima non avrò fallito la prova ma l'avrò fallita miseramente e dovrò fare un panic roll quindi ragazzi in tutta quanta questa ambientazione si corre sempre sul filo del rasoio ora non vi ho fatto vedere tutto il manuale perché ovviamente ci sarebbero altre cose da spiegare però ve l'assicuro ma al 100% questo gioco si basa tutto sul tiro di un D6 ci sono i modificatori c'è la possibilità di fare battaglie spaziali fra nave e nave soprattutto ogni xenomorfa ha le sue caratteristiche insomma ci sono tante cose che magari o ci farò una partita con mia moglie o direttamente ve le farò vedere in un altro video anche per non farlo vedere troppo lungo comunque la regola vuole che col tiro di un dado da 6 il 6 è il solo successo che potete avere solo il 6 e l'1 e tutti gli altri numeri sono fallimenti a parte però questo è un fallimento e basta tirando sullo stress die non soltanto è un fallimento critico ma è anche un panic roll direttamente tutto il gioco gira intorno a questo quindi voglio sparare al tizio ok quanto c'hai agilità 3 dadi quanto c'hai armi da fuoco 4 dadi e ti tiri 7 dadi se ti esce un solo 6 l'hai colpito poi ovviamente ci sono anche le azioni contrapposte perché se io ti attacco in corpo a corpo con una spranga e te ti difendi te tirerai la tua agilità il tuo combattimento in corpo a corpo io tirerò uguale e i miei successi che ti sto attaccando verranno annullati dai tuoi successi che hai parando insomma ovviamente c'è tutte le regole soprattutto la parte la parte del combattimento fra navi non differisce niente 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 rispetto a quella già vista in Coriolis quindi è la stessa cosa a seconda di quante unità astronomiche siete di distanza avete dei malus alloccare il bersaglio le navi non si possono sparare a occhio ma per forza anche i sistemi sono computerizzati non c'è uno alla cannoniera che spara quindi per sparare contro un'altra navi dovete prima alloccare i sistemi quindi agganciarla e poi dovete fare fuoco quando siete durante le fasi di combattimento spaziale il capitano dagli ordini e tutti gli altri li devono eseguire insomma è una variante secondo me del regolamento di Coriolis per le battaglie spaziali però molto più facile rispetto a Coriolis o Coriolì infatti è una cosa che ho apprezzato perché il combattimento spaziale su Coriolis è facile però l'avevano un po' troppo reso pomposo qui invece l'hanno sannedito molto è come fare il combattimento a piedi su un pianeta o su una stazione orbitale l'ambientazione si respira in ogni pagina ah e l'ambientazione è piena il manuale anzi è quasi tutta ambientazione e poche regole quindi come piace a me i disegni sono bellissimi la cura per i dettagli veramente mozzafiata e poi ragazzi ancora una volta non ve ne frega niente dei giochi di ruolo questa è la bibbia per tutti i fan di Allen c'è scritto tutto tutto c'è scritto anche che tipo di motore aveva l'anno stromo c'è tipo gli armamenti che hanno gli apc dei marini coloniali come funziona un fucile ad impulsi come funziona un'arma al plasma chi sono la Whalen di Utani perché la Whalen di Utani è entrata in guerra con i marini coloniali perché poi l'ambientazione parte dalla fine di Alien 2 o fra Alien 2 e la fine di Alien 3 perché c'è stato il problema e l'esplosione nucleare su Edel e Soap quindi su LV426 l'equipaggio della Sulaco è completamente scomparso la nave Sulaco è stata ritrovata però a bordo della Sulaco nelle capsule non c'era nessuno e l'ultimo contatto che hanno avuto era con la colonia penale di Fury 161 dove vi ricordate Alien 3 però dell'equipaggio della Sulaco che ci doveva essere lì quindi X Newt e Ripley a parte sono stati ovviamente cremati non è stato trovato nessuno l'unico trovato ancora in vita dalla Will and Yutani era quel matto di Morts che infatti qui ha avuto un ruolo importantissimo in questa ambientazione il matto l'unico che si salva ora mi metto un'immagine in Alien 3 e lui praticamente è quello che parlava nel film sempre del drago il drago il drago c'è dalla caccia il drago ci ucciderà che era l'oxenomorfo nato da un cane o nella versione alternativa comunque da una vacca e non hanno trovato nient'altro che lui non hanno trovato prove dell'oxenomorfo nient'altro però hanno trovato questo matto che negli anni a venire ha scritto un libro e ha scritto le sue memorie di un pazzo di un folle quindi uno che viveva praticamente in una colonia del genere tipo un manicomio ed ha scritto queste memorie su questo drago e su questa creatura aliena che ha distrutto da sola tutta quanta una colonia di detenuti doppio cromosoma Y fuori di testa bruciati e del tenente Ripley e tutto il resto non è stato trovato nulla quindi lui è l'unica fonte attendibile per modo di dire che si ha per cercare di capire chi sono questi xenomorfi e infatti dal suo libro ne è nata è una specie di bibbia e infatti in questo gioco c'è una specie di religione dove da una parte la religione è quella nostra di oggi e dall'altra parte che mi ricorda molto Dead Space e l'adoro c'è il culto della sacra incubazione che sono dei pazzi che stanno cercando la maniera sono venuti a leggendo questo libro di Morse vogliono venire a contatto con questa entità aliena per farsi incubare per evolvere in uno stadio successivo in una creatura che potrebbe sopravvivere a qualsiasi cosa ed è una cosa molto 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 bella secondo me perché crea comunque ambientazione ragazzi se devo dare un voto ci sarebbero tantissime altre cose da dire ma niente vieta di farci un altro video al riguardo se devo dare un voto ad Alien il gioco di ruolo che aspettavo da una vita primo gioco ufficiale di ruolo della saga assolutamente un 10 su 10 sfondato rotto completamente gioco della madonna costo medio alto perché se volete ordinare tutto non vorrei dire una cavolata ma mi sembra che vadano sui 130-140 euro non è ancora edito in Italia però secondo me si muoveranno le acque e lo vedremo sicuramente tradotto in italiano non ho dubbi che lo vedremo importato in Italia però per ora si trova soltanto in inglese sul sito della Freeligan quindi se lo volete ordinare andate lì tra l'altro mi è arrivato nemmeno una settimana una decina di giorni al massimo una cosa del genere quindi fa anche velocità di arrivare ragazzi bellissimo e per tutti i fan dei giochi di ruolo e di fan di Alien non vi deve mancare perché se avessi avuto questo gioco col mio vecchio gruppo quando avevo 15 anni ragazzi non sarei più uscito di casa veramente sarei più bianco a livello del sono quindi 10 su 10 è meritatissimo ringrazio la Freeligan gioco veramente stupendo e questo ragazzi Alien nello spazio oscuro nessuno potrà sentirvi urlare qui sarete voi a narrare le nuove gesta degli eroi che ci saranno comunque degli sventurati che si troveranno in contatto con queste creature Xenomorphi ma che non sono le uniche creature all'interno del manuale quante ne scoprirete ed è anche stata una cosa bella leggere perché ho scoperto tante cose dell'ambientazione che non sapevo o che magari mi ero direttamente dimenticato fatemi sapere cosa ne pensate con un commento primo link in descrizione per acquistarlo direttamente dal sito della Freeligan e ragazzi è Alien punto non c'è da di altro ragazzi notizia ufficiale dell'ultimo minuto nel momento in cui vedete uscire questo video Weird Edizioni ha dato l'annuncio dell'edizione italiana di Alien che vedete qui l'ho già rimesso non ciò vuole di ritirarlo fuori comunque vedete tutto quanto qui dietro con le espansioni dadi, carte e quant'altro l'edizione italiana localizzata a cura della Weird Edizioni quindi se vi ricordate cosa avevo detto nel corso del video che vi ho detto perché l'avevo fatto prima ovviamente in questo momento questa è una piccola aggiunta avevo detto che non avevo idea se qualcuno l'avevi portato in Italia ma un gioco del genere sarebbe da pazzi non tradurlo ed è arrivata in questo momento quando esce il video quindi andate direttamente sul sito della Weird la comunicazione ufficiale del progetto di localizzazione e traduzione in italiano sia chiaro non sarà un kickstarter quindi a differenza di tutti quanti i giochi della Weird o comunque dalla maggior parte che fanno kickstarter come hanno fatto per Conan l'ex occultum altri giochi questo non sarà assolutamente un kickstarter ma sarà una traduzione diretta quindi comunque verso novembre periodo novembre dicembre qualcosa del genere salvo ovviamente rallentamenti e cose varie ma non penso di solito quando la Weird da una data è quella a novembre quindi prendendo tutto l'arco del miso di novembre uscirà l'edizione italiana di Alien ora sicuramente il manuale base e le espansioni non lo sono ma hanno dato informazioni forse usciranno in futuro comunque andate ora appena avete visto questo video secondo link in descrizione trovate il sito della Weird e poi ovviamente i social Facebook e quant'altro per avere tutte quante le informazioni su Alien il gioco di ruolo arriva anche in Italia ragazzi bomba grandissimi della Weird